buonasera buonasera amici di youtube qua con dj matt e dj frank scusate è francese ma va bene lo stesso e in questo video abbiamo portato una capra che vedrete a mangiare sushi si si tutta la nostra combricola bella che ne combiniamo una peggio del bertoldo si si veramente e diciamo si che il video vi piaccia che parole che spuntano fuori dal dizionario di mattia bellissime e spero una buona visione a mangiare quelle verde, i peggiori bianchi non sono stile a mangiare un video bravo guarda come si mangia nooo sono meglio delle aghe di esero le aghe di esero sono meglio? no no queste le wakama si chiamano le wakama si chiamano a uno a uno comunque ma questa è? ma questa è? no quale non ho scontato non ho scontato quelle verde sono quelle verde non sono quelle crue ma mi chiede mai a tutti grazie 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 potreste ancora? albino 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 strobo buone grazie 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 eccoci di nuovo qua da chip e chop spero che vi sia piaciuto il video la capra è a posto ha mangiato ha detto si è divertita ci hanno detto sono stati bravi quelli del ristorante ne abbiamo che ci buttassero fuori si si bevono un po' poi i porcellini e la capra non può mancare si e c'era si stava mettendo a piangere da quanto è riso la capra mamma mamma le capre piangono anche si avevano perfino i dolori di pancia mamma mamma mia che serata siamo arrivati alle 9 ci siamo seduti 9 e mezza abbiamo mangiato a mezzanotte a mezzanotte ci siamo alzati sono stati bravi siamo entrati per primi siamo usciti per ultimi grazie ragazzi e con questa vi salutiamo proprio youtube e ci vediamo alla prossima ciao ciao ragazzi grazie a tutti